Buonasera, signore e signori, benvenuti. Stasera io vi parlerò a nome del mio grande amico Sidney. Qui lo vedete con mio marito. Mio marito è quello a destra. Donna, 34 anni, incidente stradale. Non ha mai ripreso conoscenza. Via a tutti quanti che sei la ragazza più fortunata del mondo. Sono viva grazie alla morte di qualcuno. Per il ciclo Top Comedy, il film Return to Me, martedì 18 maggio alle 21.10.